Il calcio italiano va conosciuto, va imparato e va interpretato. E' semplicemente questo, mi fa rabbia, aver preso un gol dopo che la squadra con inerzia, con forza ma anche con qualità, si era riappropriato nel risultato. Quindi secondo me i ragazzi sono stati fantastici nel capovolgere l'aspetto mentale tra il primo e il secondo tempo, dove sicuramente nel primo tempo avevamo fatto una prestazione sotto tono anche a livello nervoso. Quindi quando è così non è facile cambiare questo filone. Loro sono stati eccezionali in questo, peccato per l'ultimo pallone, l'ultimo respiro davvero. Però quello che fa rabbia è perché abbiamo commesso degli errori di ingenuità, di un'esperienza in generale. Perché avendo la palla in attacco a 30-20 secondi dalla fine, la partita finisce lì. Una squadra esperta, la partita finisce lì. I gol vanno valutati anche come nascono. Noi potremmo vederli tutti, ma se mi soffermo agli ultimi, partendo da Cagliari, la squadra è schierata a livello difensivo. Un giocatore è più abile dell'altro e fa gol, altrimenti non si spiega perché ci siano dei gol in partita. Quindi la squadra è schierata, non c'è un discorso di assetto tattico, perché se la squadra è schierata ci sono contropiede in questo. A Milano sul rimpalo hanno lasciato i due giocatori in aria, perché in quel caso c'è stato un pensiero positivo, non ottimista e non pessimista, perché tu devi pensare ai difensori che la palla la perdi sicuramente nel duello. Fece quel caso, si è pensato più al lato ottimista della cosa. Oggi squadra sei contro due, sei contro tre. E quindi è difficile, è un momento così, bisogna rimboccarci le maniche e non farsi prendere dal panico, perché ci sono stati degli ottimi segnali, insomma, in senso positivo. No, ma in generale se potevamo scalare prima, potevamo tenere sulla palla prima, non l'ho rivista, non l'ho rivista, potevo parlare anche con il portiere stesso, con l'allenatore dei portieri, ma non è quello, sembra che ogni gol che prenda Neto ci sia una responsabilità, sempre, a prescindere. Nell'azione dei gol ci sono state, prima che la palla arrivasse a Biebani, errori tecnici, già prima, di valutazione quantomeno. L'errore tecnico li fanno gli attaccanti, li fanno i difensori, quindi ci sta la bravura dell'avversario. Io credo che durante la partita di errori ce ne siano tantissimi, molto spesso se sei fortunato non prendi gol e tante altre volte prendi gol. Io credo che sia veramente un periodo così, si deve lavorare naturalmente sugli errori, ma andiamo avanti così. In senso generale il senso delle cose. Oggi avevamo anche Rossi a un certo punto fuori, anche Pasquale, giocatore esperto italiano, poi andiamo avanti, quindi noi in campo avevamo anche tanti ragazzi che avevano bisogno di tempo per crescere, l'abbiamo sempre detto. Poi è capitato anche che ci fossero tutti o diversi di loro in squadra contemporaneamente. Si cresce con il tempo, sono sempre delle scelte che si fanno. Se prendi giocatori già esperti, noi abbiamo bisogno anche di giocatori giovani di grande prospettive per farli crescere con noi e poi pagare anche qualcosa. Visto come lo vedo in allenamento, il giocatore dà la grandissima potenzialità, probabilmente ha bisogno di tempo per capire i compagni, per capire il calcio italiano, per esprimersi al meglio, per avere fiducia. Sicuramente è un giocatore che secondo me farà grande strada, arriverà a un grande livello, però ad oggi probabilmente ha bisogno un po' più di tempo per essere buttato in mischia se vuoi ambire a certi traguardi. Poi se non vuoi ambire a nulla, vabbè, ma sta bene, non benissimo. Sicuramente non è il suo ruolo più congeniale, ma forzando la partita, è partita da quella posizione e credo l'abbia fatta anche abbastanza bene. Ma l'ho pensato di Vargas anche nelle partite scorse, abbiamo visto che volontà c'ha. So anche che magari con quella volontà non puoi tenere tutta la partita perché ti ha troppa voglia di fare, ti fa andare anche fuori giro, no? Quindi però un giocatore ritrovato, certo, dovrà avere la continuità anche di avere la stessa intensità, gli stessi pensieri che aveva anche prima della partita. Dopo un gol magari possono un attimino essere cambiati nella tua testa. Io credo che non gli succeda, dovremmo essere bravi che non gli succeda ed è un giocatore ritrovato a tutti gli effetti. riguardo a Rossi, vediamo cosa ci divano domani. L'intenzione era quella di non portarlo in Ucraina e mi sa che sarò costretto a farlo.